C'era una volta una piccola bimba di nome Ania, figlia di due valorosi guerrieri. Venne al mondo in un giorno d'inizio d'inverno, in un accampamento immerso nella candida neve del bosco. Questo accampamento era protetto da un branco di lupi. Questo perché, quando il padre di Ania era piccolo, perse la mamma in guerra e il capobranco, che si chiamava Marek, lo fece crescere dalla sua dolce moglienina e per loro fu, da sempre, un figlio anche se umano. Un giorno, quando Ania aveva cinque anni, la tribù volle insegnarle la magia del fuoco. Così Ania, insieme ai suoi zii pelosi, ovvero Atom, Chanel e Ariel, e Pablo, si incamminarono nella parte secca del bosco. Ma quando arrivarono a metà del percorso, Ania si sentì afferrare un piede e si sentì alzare da terra e urlò, aiuto, aiuto, aiuto! Un enorme serpente bianco voleva portarsela nella tana per tenerla come scorta per l'inverno. Ma i lupi, prendendo un pezzo di albero secco e gli occhiali di Atom, mio pedala nascita, riuscirono ad accendere il fuoco, bruciare la coda al serpente e liberare Ania e far scappare, strisciando quel cattivone. Ania, sbalordita da questo evento, disse È bellissimo questa scintilla! Ma che cos'è? È tutta calda, colorata, a cosa serve? I lupi le dissero, questa è la magia del fuoco, ascoltaci bene, perché la si può usare nel bene e nel male. Nel bosco la usiamo per difenderci da bestie pericolose, più grandi di noi, mentre gli umani lo usano per cucinare e scaldarsi la notte. Il fuoco sì è utile, ma è anche tanto pericoloso. Non bisogna mai e poi mai lasciarlo acceso, perché potrebbe arrivare vento e causare un incendio con fiamme alte e il nostro bosco potrebbe sparire insieme a lui, anche noi tutti e gli animali che ci vivono. Allora Ania, tutta impaurita, ma decisa, trovò una grande pozzanghera mentre tornava a casa, prese la torcia di fuoco usata prima e ce la buttò dentro e disse Ho capito, il fuoco lo so, lo devo usare solo per necessità, ma bisogna stare attenti e non bisogna mai giocare col fuoco. Ora però andiamo a casa perché la mia mamma si starà preoccupando ed è quasi sera. Così tutti insieme tornarono al villaggio e Ania era tanto felice perché aveva imparato qualcosa di nuovo.